Dopo la sconfitta contro Eviso e la concomitante vittoria di Trieste su Ferrara, la Fortitudo ha momentaneamente salutato il primo posto in classifica. Adesso, per conquistare il vantaggio del fattore campo in tutte le serie dei play-off, ai Bianco-Blu servirà vincere due partite in più rispetto ai Giuliani, ma le gare da giocare oramai sono rimaste soltanto cinque. Calendario alla mano, la prospettiva appare difficile ma non impossibile, anche se allo stesso tempo la Consult Invest dovrà stare attenta a ciò che le accade alle spalle, con un trio di squadre staccate di quattro lunghezze che cercheranno di avvicinarsi ulteriormente e tra di esse Montegranaro verrà a giocarsi lo scontro diretto al Paladozza alla vigilia di Pasqua. Domenica prossima la Fortitudo sarà impegnata a Forlino, una gara molto sentita da entrambe le tifoserie e che rappresenta qualcosa di importante anche per i padroni di casa che vorrebbero ottenere la matematica a salvezza senza passare per le sventure altrui. Purtroppo le disposizioni emesse dalla questura di Forlimpe diranno ai fans Bianco-Blu residenti nella provincia di Bologna di assistere alla partita sugli spalti dell'Unieuro Arena, una sconfitta per tutto il movimento della palacanestro, come dichiarato dallo stesso GM Bianco-Blu Marco Cararetto in queste ore. Tornando all'aspetto agonistico, ci sono ancora, come detto, cinque partite per delineare quello che sarà l'assetto della Fortitudo che farà i play-off, ben sapendo che fin qui tanto di quello che è stato fatto finirà in cavalleria, visto che nella post-season tutto sarà rimesso in discussione e si potranno giocare praticamente due terzi di stagione regolare in meno di due mesi.